Ehm, ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft E come vedete dietro di me abbiamo di nuovo la nostra bellissima arena Perché quest'oggi andremo a far sfidare gli altri mob incredibilmente potenti di Minecraft Quelli che mi avete consigliato voi nei commenti sotto lo scorso video Ah, e tra l'altro ho continuato a consigliarmi qualche scontro da fare tra i mob tipo Conigli, Killer Bunny, Contro, Warden Bello questo, quasi lo proviamo Ma per questo video ne ho già scelti alcuni presi dai vostri commenti Mentre altri li ho inventati io Ma direi di non perdere tempo perché la nostra arena è pronta ad accogliere i nostri sfidanti Ma ancora non ci sono i nostri sfidanti Quindi iniziamo col primo round Allora, purtroppo ho perso i nomi di chi mi ha fatto le domande Quindi vi prego scusatemi però Cioè, li ho salvati qualche giorno fa e li ho persi Però comunque il primo scontro che mi avete consigliato di fare è Gust contro Warden Io direi di stoppare il tempo al momento E mettiamo un Warden contro ben 10 Ghast Dite che possono bastare? Proviamo con 10 Ghast Ok, è stato complicato devo dire la verità Perché sono incastrati tipo Tetris Però vediamo se i nostri grandissimi combattenti sono volenterosi di vincere Quindi let's go! Vediamo che succede I Ghast non attaccano il Warden Cioè, davvero? Davvero? Cioè c'è il Warden che insegue il Ghast ma il Ghast non ne frega niente Cioè quindi non c'è la sfida Cioè mi avete consigliato una battaglia che non funziona? Io penso che premerò il pulsante Sì, sono triste Molto triste E per farmi più felice adesso facciamo una sfida molto divertente Ovvero tempo stoppato Un Signor Warden contro 100 Silverfish Che come vedete hanno 8 di vita quindi 4 cuori E secondo me possono farcela Dovremmo esserci Spero che almeno loro combattano Perché altrimenti c'è quello che avete consigliato voi non funziona E sarebbe molto triste Ok, ok Stanno effettivamente combattendo Però tolgono letteralmente mezzo cuore Gli tolgono mezzo cuore alla volta È uno scontro davvero strano È uno scontro molto strano Però l'hanno messo all'angolo Quindi è interessante come cosa Perché potrebbero prendere un sacco di vantaggi Ricordiamo che sono comunque 100 i Silverfish Mentre il Warden è soltanto 1 Però sta perdendo davvero pochissima vita Davvero troppo poca Cioè 100 Silverfish contro un Warden Non fanno davvero nulla Guardate 450 HP ancora No, penso che non ci riusciranno Però forse con 200 Non lo so Però 100 sono già tanti Effettivamente c'è questo già un botto Spano alle 100 Silverfish E quello che cosa? Amico Allora guarda ti do una mano Vieni qui No, guarda vai qui Torna dai tuoi amici Dai, combatti No, lui non gliene frega niente di combattere con i suoi amici Tu invece come sei No, ancora 400 HP Ancora più di 200 cuori Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Voglio vedere per curiosità quanto arriva Però secondo me non ce la farà mai Ma proprio per niente Sono rimasti gli ultimi valorosi guerrieri Penso siano tipo 5 o 6 E niente 3 2 1 Fine Cioè oddio in realtà ce n'è uno qui Magari lui potrebbe Oh 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 Attenzione Attenzione Non può colpirlo Ok questo credo sia un Un Vabbè 310 È comunque Buono Cioè nel senso 100 Silverfish L'hanno tolto 100 cuori quasi No vero Imbarazzante Sì è imbarazzante Facciamo che lo dimentichiamo Andiamo alla prossima Sì La prossima è davvero interessante Perché mi avete proposto Di riprendere uno scontro Che abbiamo già fatto Quindi 5 Warden Contro 100 Evoker Noi l'avevamo già fatto Questo scontro Nello scorso video Mettendo 100 Evoker Contro un Warden Che l'hanno tipo distrutto Ora voglio vedere Se i Warden Sono 5 Che cosa succederebbe Quindi Spawniamo 100 di questi Dovremmo esserci Anche se in realtà Ne ho messi 101 Perché ho sbagliato a cliccare Però non ditelo a nessuno Adesso però Mi raccomando Voglio vedere nei commenti Le vostre scommesse Cioè nel senso Prima che scombattano Voglio che voi scriviate Chi secondo voi vincerà Perché Cioè nel senso Adesso noi stoppiamo il tempo E facciamo partire la battaglia Secondo me sarà una battaglia Davvero interessante Quanti Vex ci sono Mi sta anche laggando il gioco Quante entità ci sono Faccio 30 FPS Quanta gente Ciao Ciao Sì No Perché sono tutti contro un Warden Scusa Gli altri Warden Non li guarda nessuno Non ci capiscono E vabbè Ok Non ci sto a capire niente No vabbè Guarda queste Belle Sì sì Però i Warden dove sono Ok aspetta Qua ce n'è qualcuno 400 400 Oh Sono ancora tutti un sacco alti Sapete che Secondo me non ce la fanno Secondo me non riescono Nonostante siano un sacco i Vex Magari diamogli un altro stimolo Per combattere Credo che Non ci stiano Riuscendo Non lo so È strana questa battaglia Perché molti non stanno più neanche combattendo Ragazzi Ragazzi Dove stai combattendo Eh Aiuto Questo Warden è tipo Focusato da tutti i Vex Quanta vita ha Ok È in giallo Un Warden sta morendo Credo Non lo trovo Ok sì Quello lì sta morendo Poi ci sono ancora lui Che è praticamente pieno Lui che è pieno E lui che neanche vuole combattere Beh In questi casi Non lo so Non vi va più di Di combattere Cioè nel senso perché voi Dovreste essere Dovreste combattere Cioè tu sei contro Capito Non ha capito Mi sa Si è creata una situazione strana Non capisco perché gli Evoker Cioè sono stanchi Non avete più energia Dai Evoker No Evoker non gli va più Non Non vogliono più combattere In questo caso chi vince Scusate Queste sfide consigliate da voi Sono davvero strane Cioè devo essere onesto Non Io premo il pulsante Sì pulsante Così risolviamo molte cose Ah Il prossimo scontro È interessante Perché abbiamo un Warden Sempre lui perché è bellissimo Contro un pochetto di Endermans Io ne metterei tipo 6, 7, 8, 9, 10 30 dite che bastano Secondo me 30 potrebbero bastare Perché comunque loro si teletrasportano Quindi facciamo 50 Sì dai facciamo 50 Forse è meglio Dovremmo esserci Riprendiamo il tempo Ok E facciamo partire la batta Enderman Dovreste combattere contro di lui Vi tipo tutti qua E ti picchiocciole Type Enderman Man Nico Vai Combattete No Non gli va neanche a loro Oggi non voglio combattere nessuno Aspetta però Se facessi così E così No Neanche Niente Oggi sono tutti pacifisti Basta Sono offeso Il prossimo scontro Ho colpito qualcosa E direi a dir poco Epocale Perché quest'oggi Andiamo a fare uno scontro Molto bello In particolar modo Un Wither Due Wither Tre Wither Contro Un Warden Due Warden Tre Warden Come se fosse Di mettere i cinque Perché loro comunque volano e possono scappare Ma sì dai mettiamo i cinque Cinque Warden Quindi Warden Venite qua Tutti in un team E voi invece tutti nell'altro team Vediamo che cosa ci regalano Let's go Combattete Attenzione Che battaglia Incredibile Anche se I Wither Stanno brutalmente Distruggendo I Warden Gli hanno già tolto un botto di vita E effettivamente i Wither Non possono essere colpiti Se non con questo attacco qui Che non gli toglie neanche un sacco di Ok Sì se guardiamo la vita di questo signore qua Gli toglie abbastanza eh Però non lo so Non lo so È una bella battaglia Sapete che non so su chi tifare Forse i Wither Perché possono volare Sapete Fatemi sapere nei commenti voi Per chi tifate Perché se ne uccidono uno Vuol dire che i più Warden Non si focussano su di un altro E quindi Cioè l'importante è che ne uccidano uno Questo qua deve morire E se ne muore uno Forse è fattibile la vittoria Anche se loro Mmm Lui è quasi in vita gialla eh Lui è quasi in vita gialla Lui anche Non lo so Non lo so La vedo molto tosta Aspettate un attimo Ne ho perso uno Credo ne abbiano ucciso uno Ma non ne sono sicuro Aspetta proviamo a fare così TP Chiocciolae Nico Ok Ne è morto uno Ok Ok Ne stanno Oh mio dio Stanno tipo facendo tutti i colpi In contemporanea su uno Ah Perché se si abbassano Riescono a colpire Ho capito Allora ci sta Allora ci stanno brutalmente Vinte i Warden Perché quest'ora Diventerà in fase super caricata Si abbasserà E loro lo picchieranno Anche se un Warden è morto Due Warden Oh sta morrendo tutti Oddio Attenzione questa è una sfida Letteralmente all'ultimo colpo Devono portare la metà vita Devono portare la metà vita Se riescono a portare la metà vita È vinta Hanno pochissima vita Lui ancora ne ha 147 di cuori Ne sta per morire un altro Ne sta per morire un altro Ne sta per morire un altro Ne sta per morire È morto un altro Ok È sceso È sceso Lo stanno colpendo Lo stanno colpendo No Non ci credo Ce l'hanno fatta Ce l'hanno fatta con 46 HP Che in realtà sarebbero tipo 23 cuori E con 118 che sarebbero 50 E qualcosa cuori 58 Bravi i nostri ragazzi Siete davvero molto bravi Ora però Via di qui Perché cioè capisco tutto Però sono gli più forti del mondo Però 5 Warden hanno vinto contro il 3 Wither Bravi Oh Bravi Sul prossimo scontro in realtà non conto più di tanto Perché un Warden contro 50 streghe Non so che cosa potrebbero fare Soprattutto perché le streghe lanciando le pozioni sicuramente si colpiranno tra di loro Quindi sarà divertente vedere come si colpiscono tra di loro Allora su questo scontro non confido troppo Però vediamo che succede Le streghe non Ah sì eccole Ok Stanno iniziando a lanciare le cose Però è che infatti si stanno colpendo a vicenda Vabbè sono tutte velenate mo Va bene Combattete signore Non vi va di combattere Vi state avvelenando da sole Lei è ancora avvelenato Vabbè Però anche lui è avvelenato eh Cioè sì insomma perde la vita Che perderebbe contro un Silverfish Però No credo che questo duello non sia vincibile No credo che le streghe siano un po' troppo No No la direi proprio di no Streghe guardate Guardatemi guardatemi Tutti vi faccio una foto Vi faccio una foto Bele se va Prossimo scontro Molto interessante secondo me Perché abbiamo un warden contro Ben Quanti killer bani facciamo? 6 7 8 9 10 Ne facciamo 50 E direi 3 E direi 2 E direi 1 E direi combattete Guarda che esercito di coni Gli assassini Guarda come saltano tutti insieme Che sembrano i bot di Istanbul guys Attenzione Hanno soltanto Un cuore e mezzo Però tolgono un sacco di danno Ok Non so Ce la possono fare sapete? Perché ha perso già Urca miseria Ok Questo scontro è molto interessante Io ti favo per i conigli in realtà Anche se non l'avrei mai detto Che avrebbero fatto tutto questo danno Oh mio dio Oh mio dio Ma questi conigli assassini hanno Cosa? L'hanno ucciso? È morto Ha 50 cuori 50 25 in realtà Niente Ultimi due hit Ciao Morto Ok Quindi i conigli assassini Sono così forti Bene Buono a sapersi A questo punto voglio provare anche un'altra cosa Scusate Cioè se mettessi tipo 5 di questi contro 50 conigli assassini Cosa succederebbe? No perché Scusa Questi qua sono molto forti Vi ricordo che Avevano ucciso anche il warden Però riusciranno a sconfiggere anche questi Secondo voi Voglio vederlo Voglio vederlo Per la scienza questo è d'altro Vuoi vedere che alla fine di tutto Il killer bunny è il mob più forte di minecraft? Cioè in realtà no Perché era un warden contro 50 killer bunny Però Cioè un warden è forte I killer bunny sono conigli Cioè io non me la sarei Aspettato questa cosa eh Vediamo se riescono a vincere anche questo scontro contro questi 5 Revengers 3 2 1 Combattete signori Combattete Ah loro non reagiscono? Eh se non reagiscono è una vittoria facile Ah no ok sì Ora reagiscono Ora reagiscono Guarda che brutto quando attacca qualcosa Eww Apre le sue fauci E il primo è andato E il primo è andato E il secondo Cosa sta succedendo? Dovete attaccare Loro Combattete No Non mi va Vabbè E In questi casi Si ricorre a un'unica cosa Il bottone Che tra l'altro nei commenti mi avete detto Effettivamente il mob più forte E' il bottone Avete ragione Non c'è dubbio su questo Ma andiamo ora verso la fine E mettiamo a scombattere A combattere due mob molto belli Ovvero Mettiamo tipo Ehh Quanti ne mettiamo di blades? Direi 5 6 7 8 9 10 20 20 Perché mi piace il numero 20 Contro 2 Iron Golem Forse anche 3 Si direi anche 3 Perché forse potrebbero essere in svantaggio Quindi Stuk 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 E direi che la battaglia Abbia inizio Combattere Signor Golem Dovreste combattere anche voi Signori 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 Golem Qui c'è un'armata dei blades Che va lanciare le palle di fuoco Come se non la fosse Dovreste reagire Dovreste difendere il vostro Ok Devo dire che è molto bello Vedere la prospettiva da questa parte 3 2 1 Fuoco Fuoco? Fuoco Si fuoco Hanno dato Hanno fatto Fuoco 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 Si 3 2 1 Fuoco Bello Che bello Sono dovuto comandare un esercito di blades Però me li stanno uccidendo tutti Sono morti tutti Dai no No dai No No Il mio esercito di blades Morto Vabbè mi senti ipatico Non ti volevo nessuno Neanche a te Come ultimo scontro invece Abbiamo due mob strani Che sono l'ask Che è uno zombie modificato Effettivamente Ne mettiamo 5 6 7 8 9 10 Mettiamo 20 ask Ce n'è anche uno piccolino Vabbè uno c'ha la spada Contro 20 strike Che invece sono gli scheletri modificati Che di fatto sono Quelli del deserto E questi della Piedora in nevata Non so bene come si chiami Ice plane credo Non lo so Comunque 20 contro 20 Quindi sono a pari potenza Loro hanno l'arco Quindi possono colpire Anche da più distanti Mentre loro hanno Niente Le mani Però lui ha la spada Che magari può Può aiutare I suoi compagni a non morire E vediamo Chi tra di loro Avrà il meglio 3 2 1 Via Combattete Combattete Attenzione Gli ask sono arrabbiatissime Gli ask sono arrabbiatissime Sono tutti contro quel povero coso Non dirmi che Ne amazzano uno E poi sono pacevi Signori ask Cioè io Io capisco tutto però Combattete dai Sono un po' lenti Diciamo che si scontrano Con molta calma Tipo adesso c'hanno tutti con lui Odiano tutti lui al momento E non ci si può fare niente È morto E lui è morto Vi giuro che quest'oggi Sono molto confuso Quindi provo a fare una cosa Di questo tipo E provo a fare Stuck E stuck E stuck E stuck E via Così Voglio vedere 1v1 chi vince 1v1 Fortnite Battle Royale Attenzione Eh vabbè ma se lui è all'arco Lui non potrà mai avvicinarsi Bro Questo non è molto giusto eh Secondo me non è molto giusto No non è molto giusto Non mi piace Gioco scorretto È un gioco scor Zero cuore è in vita Ah ok Comunque per oggi Io direi che è tutto Fatemi sapere sotto Nei commenti Se volete qualche altra sfida Molto stramba e particolare Ma ricordate sempre Che il più forte È solo una persona Ovvero Io Dovevo shottarlo Però non Non ne so Vabbè Buon Natale a tutti E felice anno nuovo Buon Natale a tutti